Causa malattia, mi sono rimasti dei pacchi arretrati diciamo di questo periodo, quindi facciamo un qualcosa di un pochino più cumulativo. Visto che tutti sono laser e anche un accessorio che poi ve lo farà vedere il me del passato, ho deciso di metterli tutti sotto un unico video. Poi le recensioni dei singoli oggetti le andremo a rivedere più avanti. Quindi come vi dicevo vi lascio al Luca del passato, ma come sempre prima di tutto, sigla! Allora, qui sono state mandate queste due scatole nello stesso collo e onestamente non ho idea di che cosa ci sia dentro perché molto spesso i brand si dimenticano di avvisarmi che speriscono i numeri di tracking e quant'altro. Quindi per me è sempre un po' una mezza sorpresa e anzi a volte è anche piuttosto scomodo. Allora io direi subito di mettere da parte questo che è quello che mi sembra più importante. Quindi partiamo da questo scatolino. Vediamo un po' che cosa c'è qui dentro. Materiali da imballo, materiali da imballo. Una palla di Natale. Ok. Un'altra palla di Natale. Coffee Moog. No, giuro, io non ho ordinato niente del genere. Magari è qualcosa di relativo a quello. Ah, qui c'è anche un anello. Non riesco a capire che cosa possa essere. Poi qui abbiamo un'altra scatola. Adesso sono super curioso di sapere che cosa c'è lì dentro più che altro. Boh, boh. Sembrano dei piedini. Allora questa roba qui mettiamola un secondo da parte perché sicuramente è qualcosa di complementare. Quindi andiamo ad aprire questo affare. Ho capito che cos'è e come al solito avvisatemi per favore. Adesso tiro fuori il tutto e ve lo spiego. Prima di tutto qui troviamo la testa tipo tornio. Veramente super interessante come sistema. Vi anticipo subito che questo qui è un add-on per un laser, per una macchina laser. Togliamo un attimo questo. Adesso lo vado subito a montare e vi spiego un attimino a che cosa serve. Dobbiamo andare ad installare questo catafalco che è veramente super robusto. Lo dobbiamo andare ad inserire qui dentro. Dobbiamo andare a prendere questo pomellino con vite M5. Andiamo ad avvitarlo qui. Come potete vedere tutto è pilotato da un unico motore che è qui dentro. Infatti se vado a girare questi due rulli ovviamente girerà anche questo... Non saprei come chiamarlo. Noo che spettacolo! Cioè intanto le cose le scopro anche io. Allora se noi prendessimo questi tre pezzi, questi lisci, e li andassimo ad avvitare qui così. Ora capisco perché mi è andato tutta questa roba. Mazza! Che precisione! Cioè andando a girare questa ghiera tenendo fermo il tutto, questo affare qui si apre e si chiude. Se noi adesso inserissimo l'anello qui dentro e adesso andiamo a prendere a girare, come potete vedere l'anello resterà perfettamente fermo e soprattutto noi potremo andare a prendere e incidere in modo circolare un oggetto sicuramente più particolare rispetto che a un bicchiere o quello che è. Poi qui abbiamo dei clamp a gradini che poi si andranno ad avvitare qui sopra e ci serviranno per andare a stringere diciamo oggetti di diverse dimensioni. Idem con patate, questi qui anziché ad essere a gradini sono ad L. Dopodiché apriamo un pochino la pinza, andiamo a inserire questo affare. Magari un sistema un pochino più pratico per stringere, cosare e quant'altro avrebbe fatto sicuramente più comodo. Comunque come potete vedere la pallina di Natale sta nel suo posto, ovviamente va centrata nel modo migliore possibile. Come potete vedere la palla diciamo seguirà il tutto. Cosa che non sarebbe stato assolutamente possibile fare con un piano rotante di tipo tradizionale. Veramente tanta roba. Sicuramente darà una marcia in più agli incisori laser. Allora prima partiamo dalla scatola mini che è veramente super compatta e non sono abituato a vedere diciamo degli imballi con grafiche e quant'altro in genere. Questa attrezzatura è sempre molto spartana. Addirittura questo mi è stato consegnato dal corriere di Amazon quindi vuol dire che rientra nella loro logistica quindi probabilmente si trova per l'appunto su Amazon. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Allora troviamo un pezzo di metallo. Ah ok ci serve sostanzialmente di evitare di bucare il tavolo. Poi manualetto, cavetto IEC, cavetto USB. Qui abbiamo un braccetto. Bella se sta finitura qui sopra. Ci sono, uh, queste qui sono delle prolunghe per le gambe, comodo che vengano date in confezione. Poi qui sotto il modulo laser, è un classico da 5 watt. Qui c'è una sorta di vetrino per osservare la macchina lavorare ma sembra essere diciamo di qualità superiore rispetto a quelli che siamo abituati a vedere su questa tipologia di prodotti. Qui sotto invece troviamo la scheda di controllo con un interruttore che è comunque integrata alla struttura di base. Cioè attualmente si poggia così. Alimentatore vero e proprio. 12 volts, 5 ampere. Poi qui abbiamo vari accessori per il montaggio. Questa è l'altra zampa. E poi qui troviamo il braccio dell'asse X. Come potete vedere questo carrello è dotato di due handstop fatti con questi pulsantini molto semplici. Comunque nella confezione non c'è più nulla quindi io direi di andare ad assemblare il tutto. Dovrebbe essere decisamente super semplice. Allora innanzitutto andiamo ad inserire questo qui così. Poi prendiamo le quattro viti a brugola e andiamo ad avvitarle. Una e una due. Facciamo la stessa cosa per l'altro. Ok la struttura praticamente è già montata. Dopodiché andiamo ad installare le cinghie. Sarebbe stato comodo se avessero installato un tendicinia anche perché infilare sta roba qui qui dentro che è già tirata è un po' scomodo. Comunque già che ci siamo andiamo a collegare innanzitutto il motore dell'asse X e poi questa schedina. Poi prendiamo il cavetto. Andiamo ad inserire qui dentro. Andiamo a posizionare la testa laser qui. E poi semplicemente andiamo a collegare il connettore qui sopra la testa. E in realtà il gioco è fatto. Molto comoda la manopola qui davanti. Stringe davvero bene. Sicuramente non si smuove da lì. Però non soffermiamoci troppo su questa. Poi come vi dicevo arriverà la recensione completa e passiamo al prossimo prodotto. Questo invece è un pochino più grosso. Me lo manda Adster. Un'azienda di cui non conoscevo neanche l'esistenza. Però onestamente vedendo sul loro sito sembrano dei prodotti super super validi. Sia da un punto di vista di struttura, di potenza eccetera eccetera. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Uhlala un manuale che si possa definire tale. Guardate quanto è spesso. Ah abbiamo anche il manuale di installazione vero e proprio. Tanta roba. Qui abbiamo un'altra lastra in metallo precisamente come l'altra in realtà. Anche mi sa a dimensioni non so perché. Quindi non la sto neanche a tirare fuori. Sembra qualcosa di realmente molto serio. Qui entra vedo un pulsante di stop veramente bellissimo. Comunque qui troviamo struttura, struttura, struttura. Oh è ancora struttura. Questo è un display con l'HDMI. Di che cosa stiamo parlando? Mettiamolo via e lo rivediamo dopo. Allora qui in fondo porco cane. Guardate qui la struttura come è fatta. Sembra veramente spettacolare. Qui sempre con un fine corsa a pulsantino. E il motore è già integrato qui poi con un accoppiatore. Poi qui troviamo degli occhiali di protezione. Altra struttura. Sicuramente bella pesante. Qui abbiamo altra parte della struttura. Qui come potete vedere c'è un'antenna. Ovviamente deve stare esterna perché sennò dentro al metallo non funzionerebbe. Comunque ci sono già qui attaccati tutti i cablaggi. E qui dentro c'è la scheda madre, scheda di controllo e quant'altro. Questo qui sarà il pulsante di stop d'emergenza. Come potete vedere è veramente bellissimo. Qui c'è l'alimentazione, forse un po' scomoda messa qui sopra. Poi l'USB, pulsante ON-OFF e poi lettore di microSD. Questo ovviamente ci fa capire che display più schedina uguale stampa offline. E qui di fianco la porta HDMI che in realtà sarà semplicemente di comunicazione col display. Poi proseguiamo, proseguiamo. Qui abbiamo un pennellino, cavo IEC. Poi qui c'è un sacco di roba. Qui abbiamo dei passacavi, oltre che varie chiavi, fascette e ovviamente le viti per il montaggio. Poi qui abbiamo un cavetto USB. Oh ecco quello che dicevo, il cavetto HDMI molleggiato. C'è un'altra parte della struttura. Qui bestia. L'alimentatore. 24V 5A da 120W. Davvero tanta roba. Poi qui invece abbiamo la movimentazione della testa laser. Con qui dietro questo pomello per la regolazione dell'altezza del laser. Ma ho notato che qui c'è lo spazio per la regolazione apposta del dado eccentrico. Quindi possiamo effettivamente regolarlo con comodità. Qui come vi dicevo il display. Ultimo ma ovviamente non per ordine di importanza. Ma ho quanto è peso. Cos'è questo mostro? Questa qui è la testa laser della Atezer. Atezer come l'avevo chiamata prima. Quindi è Atezer. Il laser come c'è scritto qui è da 10-11W. Qui abbiamo l'ingresso per l'aria. Perché è molto probabilmente qui esatto. È già dotato di nozzle per l'air assist. Anche questo laser ha questa finestrella di protezione per i raggi laser. E wow. Ah e qui invece troviamo questo. E non dovrebbe essere altro che lo strumento di calibrazione dell'altezza. Quindi concettualmente il pezzo andrà messo a contatto con questo pezzettino. E rimarrà così. Poi lo rimetteremo a posto e possiamo concettualmente lavorare. Ok onestamente non mi aspettavo una macchina di questo tipo. Quindi molto probabilmente vale la pena dedicarci un video apposta. Se no questo diventa troppo lungo. Quindi io vi rimando sicuramente alle prossime puntate qui sul canale. Per l'appunto con le recensioni e l'assemblaggio di questo. Quindi niente questo video un po' insolito di unboxing finisce qui. Mi raccomando se aveste delle domande su questi prodotti. Che magari possiamo rispondere poi nella recensione completa. Mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti. E niente ragazzi il video di oggi finisce qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace. Iscrivetevi, commentate mi fa sempre un sacco piacere. E ci rivediamo ad un prossimo video.